allora io la vedo tragica non so voi non so voi ma io la vedo veramente tragica se continuiamo così ci cacciano e allora tanto le magliette questo è fondamentale contro la regina non tale da la regina allora riproviamo col col modulo quello lì riproviamo con oppure con un altro modulo va bene questo filocamo seconda punta minieri e leo centrali panci mi dispiace ma hai rotto i coglioni tra lazzarini dal primo minuto rosi sempre più rotto scontento matteo perché giochi tutte le partite perché sei scontento manovra veloce vediamo se cambia qualcosa io direi che il titolarissimo che non si può cambiare è solo meno un cielo perché tutti gli altri ragazzi stanno a fare idea piove quindi i giocatori diventano ancora più pesanti bene così menesse pure menesse c'hanno ecco comprano solo noi menesse no questi già stanno a 2 mela non andiamo bene niente se la guardano se la guardano tutti bravo micine era buona cazzo non funziona mai io non funziona mai quello che voglio io menesse 40 anni ancora gioca a pallone sembra un ragazzino ma non c'è sempre lui un cazzo di muro guarda 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 se mi segue qualcuno vigorelli si addormenta vigorelli hai rotto i coglioni niente non so più che fa non so più che cazzo fare eh daia no e daia no leo bravo leo che prende campo bravo rosci in mezzo per vicorelli che non riesce a staccare carriero si addormenta un po' però va bene vigorelli ci prova da che ha preso questo menesse ma arriverà il primo punto? non ne chiedo 3 ne chiedo 1 giusto per non... non fasse caccia via dai vattene a casa menesse vai a casa dai bravo vico fattene vico fattene vico è buona è buonita no valet non è possibile valet non è possibile non è possibile stare davanti alla porta cristo dio santo c'è pure la 10 c'hai cristo dio credibile incredibile che è successo qua ma perché che cosa è successo bravo dario che si è inventato valerio fatti perdonare ti prego ti prego ti prego guarda 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 la madonna guarda la madonna non ci siamo proprio non ci siamo proprio con gli schemi non ci siamo con niente col tempo di 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 passaggi di di tiri niente non ci siamo proprio ma vi schemi guarda che ho finito da un quarto d'ora sempre menoncello sempre menoncello l'unico allora dove sta prestazioni prestazioni 5.5 minieri, vai via, via minieri non c'è nessuno però che può ricoprire il trequartista forse Rossi, entra Lanza entra Lanza si riprende a giocare dopo primo tempo più in parità difficile fare pronostici calma giochiamo a memoria calma Vigorelli, è buono ma te tira, niente, niente, non è possibile non è possibile, dai, siamo pure sfortunati però non è possibile non è possibile così non è possibile bravo Marco meno cielo a impostare Lanza Vigorelli Vigorelli Ruzzi dai a Dario guarda Dario, guarda Dario, guarda Dario, guarda Dario un giocatore straordinario è un giocatore straordinario è un giocatore straordinario il nostro capitano trequartista fa la differenza c'ha sapendo prima mi ha detto che è rosica in panchina guarda che ha fatto, si è mangiato tutti si sblocca anche il capitano dopo sei partite dagli è Dario dagli è Dario si sblocca anche Dario il mio capitano il nostro capitano bravo Lazzarini calma Ndonio no Ndonio no Ndonio è stanco Ndonio è stanco Ndonio manco tanto bravo è buona sempre Rossi sempre Rossi fa quello che vuole Rossi che cazzo Vigorelli sbaglia il tempo nettamente maledizione 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 sessantaottesimo teniamo duro teniamo duro a me non scello non lo chiappa niente porca madonna sca niente 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 guarda che progressione Dario guarda guarda che progressione Dario guarda guarda che progressione il mio capitano guardalo guarda che progressione il mio capitano niente sei mangiato però Vigorelli fattene Vigorelli vai via ti voglio più vedere vai via no no che offensivo buono buoni puntano al pareggio qui che è meglio bravo Lanza dai dai chiodi calma calma chiodi fa quello che vuole chiodi non è possibile che tiri così però ma che non è possibile che hai tirato così ma io dico porca troia ma come hai tirato ma come cazzo tiramo occhio è l'86esimo attenzione mamma mia che ha preso Mosca che ha preso Mosca che rischio me ne infischio butta giù sto cazzo di pallone butta giù butta giù Grì butta giù sto pallone ci possiamo riuscire ci possiamo riuscire a piar pareggio fischia che è finita finalmente arriva il primo punto della GSA arriva il primo punto della GSA va bene va bene uguale ci sono parametri di crescita menoncello 7 e mezzo ragazzi uomo partita uomo partita menoncello il peggiore è stato Minieri 5 e mezzo dopo quell'errore davanti alla porta ci vediamo al prossimo 5 e mezzo ma 2 e mezzo